Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento del medico delle rotticole. Per la patata oggi parleremo di Peronospora. Noi andremo a intervenire nelle prime fasi di sviluppo con prodotti di copertura quali Propineb, Antracol 70VG oppure Fluazinam, prodotto commerciale Ohio o ad esempio Giazofamide e Ranmantop. Questi prodotti sono indicati per le prime fasi perché danno una copertura migliore. Per questi prodotti vengono consigliati i seguenti dosaggi. Antracol a 2 kg per ettaro, Ohio a mezzo litro per ettaro oppure Ranmantop a 2 litri per ettaro. Per le fasi di sviluppo successive, quindi con piante più grandi utilizzeremo prodotti con efficacia citotropica o sistemici. Metallaxilem come Ridomil R Gold, Dimetomorph, prodotto commerciale Forum Mandipropamide per Gado SC o Flupicolide più Propamocarb come Volare. Per questi prodotti i dosaggi che andremo ad applicare saranno i seguenti. Ridomil R Gold 4 litri per ettaro, il Forum R 3,5 kg per ettaro, il Pergado SC mezzo litro per ettaro, il Volare 1,5 litro per ettaro. A tutti i prodotti appena elencati andremo ad aggiungere le rame per migliorare l'efficacia. Inoltre questo aiuterà anche a prevenire l'insorgere di batteriosi sulla coltura. Un consiglio, tutti questi principi attivi andranno alternati fra di loro per evitare l'insorgenza di resistenze da parte di funghi patogeni. Il dorifero della patata, i prodotti che noi andremo a consigliare saranno a base di Imidlacoprid come Confidor o Koinor, Tiametoxam come Actara, Acetamiprid, prodotto commerciale Epic o Metaflumizone come Alverde. Questi prodotti andranno utilizzati alla comparsa delle prime larve. I dosaggi che consigliamo sono di mezzo litro per ettaro per il Confidor e il Koinor, 200 g per ettaro per l'Actara, un chilo e mezzo per l'Epic o 250 g per ettaro per l'Alverde. Un breve accenno per quanto riguarda la concimazione. Per chi non avesse ancora terminato le concimazioni consigliamo in questa fase di intervenire con concimi a lenta cessione che ne ottimizzano il rilascio dell'azoto stesso nel terreno. Parliamo di carota. In questo periodo, a causa delle forti precipitazioni, abbiamo grossi rischi di infezione da parte di alternarie. Per contrastare questo funcopatogeno, noi interverremo in maniera preventiva con prodotti a base di difenconazolo, quali Score oppure Difcor, Azoxystrobin, prodotto commerciale Ortiva, Pirimetalin, come Scala, oppure Piraclostrobin più Boscalid, il nome commerciale è il Signum. I dosaggi che andremo ad applicare saranno i seguenti. Score o Difcor a mezzo litro per ettaro, Ortiva a un litro per ettaro, Scala due litri per ettaro, Signum un chilo e mezzo per ettaro. Vi ricordiamo che si possono effettuare massimo due interventi con la stessa molecola e che i prodotti a base di Azoxystrobin e Piraclostrobin hanno anche un'efficacia secondaria sull'oilio. Visto che il periodo di raccolta è ormai prossimo per le prime semine di carota, vi ricordiamo di rispettare i tempi di carenza dei prodotti appena nominati. Il mio intervento finisce qui, un saluto e un ringraziamento a tutti e ci rivediamo alla prossima.